vorrei illustrarvi una ricerca in campo fotografico che va controcorrente infatti mi sono prefissato di stampare manualmente uno scatto elettronico in camera oscura con un procedimento artigianale tutto manuale mi sono procurato la carta ilfo chrome come quella che veniva usata per stampare le depositive e di bagni chimici ed inoltre qualche filtro grigio neutro per depotenziare la luce troppo potente del proiettore della camera ho iniziato il procedimento della stampa su carta ho usato una macchinetta in grado di scattare una fotografia che è di proiettarla poi su una qualsiasi superficie chiara la macchina fotografica usata per lo scatto è stata usata poi in camera oscura come ingranditore la spinta per questa ricerca è stata dettata dal desiderio di nobilitare uno scatto elettronico trasformandolo in un ibrido che potrebbe diventare un vero vintage a colori per il valore aggiunto anche dalla creatività per gli interventi possibili durante la fase di stampa le immagini che vedete sono esplicative del procedimento e le altre immagini che seguono sono dei virtuosismi dimostrativi delle potenzialità di questo procedimento a presto a presto a presto